A Pescara, confronto sul piano antirumore nelle zone della Movida, Piazza Muzzi ed intorni, alla luce dei rilevamenti effettuati dall'Arta. All'incontro hanno preso parte il sindaco Masci, le associazioni di categorie e il comitato dei residenti tranquillamente battisti. Al centro della questione ricorso dei cittadini contro la Movida ritenuta molesta, la luce dello studio dell'Agenzia per la tutela dell'ambiente. Se da un lato gli esercenti temono ulteriori restrizioni, dall'altro i residenti chiedono provvedimenti concreti, prima dicono del caos. L'assessore del Trecco precisa che... Si è sollevato un po' di scalpore, anche di malumore, probabilmente a mio giudizio infondato, perché il piano di risanamento acustico si rende necessario a seguito di una pratica che è in procura e che è anche per tante altre città del nostro paese. Il piano di risanamento acustico non fa altro che portare quella che è la situazione accertata dall'Arta o comunque certificata all'Arta relativamente al rumore, un rumore antropico. E successivamente quali possono essere gli interventi o comunque dove intervenire per cercare di risanare quella zona. Quindi diciamo che la parte veramente operativa sarà successiva, ma fondamentalmente è un piano dovuto, è un piano che si basa su normative di legge, quindi praticamente tecnico, anche perché non prende posizioni su nulla, né sugli orari, né sugli spazi, né su nulla. Certamente c'è una situazione che va sanata e chiaramente con il buonsenso e la collaborazione di tutti credo che ci sia un buon lavoro da poter fare. Quasi sicuramente l'ultima parola aspetterà il Consiglio Comunale. Per gli operatori e i titolari dei locali parla Marina Dolci, presidente Confesercenti Pescara, la quale vuole chierire. Intanto ringraziamo l'amministrazione perché veramente è l'assessore del Trecco, perché questi incontri sono utilissimi. Due problematiche più importanti sono il rumore creato dai tavolini e dalla pulizia serale o notturna dei locali. Sicuramente da parte degli esercenti ci sarà una maggiore attenzione a sollevare i tavolini, a fare meno rumore. E il secondo rumore che invece sarà più difficile da poter controllare è quello antropico, ossia il chiacchiericcio. Si potrebbe avere questo chiacchiericcio anche alla fine dell'orario di lavoro degli esercenti. Quindi come possiamo dire a dei ragazzi andate via perché sono le 4 di mattina. Gli operatori hanno timore di ulteriori restrizioni. L'amministrazione ci ha detto che per il momento non ci saranno. C'è un monitoraggio più importante e questo ci sarà anche da parte nostra. Cioè saremo sia noi con i nostri vicini esercenti di lavoro a dire per favore fai più silenzio, controlla di più la tua clientela. E stessa cosa da parte dell'amministrazione e delle forze dell'ordine.